Ero spinto da un desiderio di verità, dal sospetto che la verità non fosse quella che mi era stata raccontata. Mi chiamo Azzo. Seguimi se lo desideri. Tirandolo fuori da lì, avanti, subito! Ci sono due monaci morti e tu non puoi più tacere. Sapevo della vostra intelligenza, caro fratello. Dicono che Baskerville abbia un suo fascino. Egli vi odia. La biblioteca è un grande labirinto. Dal bestseller mondiale di Umberto Eco, Rai Fiction presenta Il nome della rosa, la serie.